Ed ora parliamo di sicurezza sul lavoro in provincia di Piacenza. Da gennaio ad aprile del 2016 sono state 1668 le denunce di infortunio, di cui tre purtroppo incidenti mortali. Mentre da gennaio ad aprile invece del 2015 erano state 1574 le denunce e un infortunio mortale. Da segnalare che nell'intero, nei 12 mesi del 2015, nel solo Piacentino, le denunce sono state 4848, di cui sei incidenti mortali. Parliamo di questo con Bruno Galvani, che è il presidente della fondazione ANMIL, al quale do il benvenuto. Buonasera. Buonasera a voi. Parliamo con lui perché è riducito da un'importante campagna per la sicurezza sul lavoro. Un tour che l'ha visto protagonista in diverse città di tutta Italia. Un tour che è partito da Monfalcone il 28 di aprile e si è concluso a Roma il 17 giugno scorso. Quindi il signor Galvani è rientrato a Piacenza. Lui è di origini piacentine proprio da pochi giorni. Da lui vogliamo sapere innanzitutto che cosa l'ha spinto a partire per questo tour, per questa iniziativa. Ma intanto è stata un'iniziativa veramente complicata, difficile, ma anche estremamente emozionante. Ci ha spinto semplicemente alla valutazione dei dati. Ci stiamo rendendo conto che nel nostro paese, purtroppo, gli infortuni sono ancora un tema quotidiano e le morti sul lavoro non stanno affatto diminuendo. Inoltre abbiamo il grandissimo tema che riguarda proprio tutti noi delle malattie professionali, ma anche degli effetti dell'amianto. Sappiamo che nel nostro paese, purtroppo, vi sono ancora 36 milioni di tonnellate di amianto e sarà un gran problema riuscire a smaltirlo. Il viaggio è partito per questo e anche perché ritenevamo che il sacrificio di questi lavoratori, che molti ad oggi non hanno ancora avuto giustizia, meritassero i nostri sforzi e il nostro impegno totale per far sì che, insomma, in qualche modo queste morti venissero ricordate e soprattutto non fossero versate in vano. Con sicurezza sul lavoro che lei conosce molto da vicino. Infatti lei è rimasto vittima proprio di un infortunio sul lavoro all'età di 17 anni che l'ha resa paraplegico. Sì, in effetti il mio è un po' l'esempio di cosa significa andare a lavorare negli ambienti lavorativi senza avere una preparazione, senza conoscere i rischi che li si corrono. Devo dire che è stato complicato, è stato difficile accettare una cosa di questo genere soprattutto a 17 anni, non lo nascondo, ma poi credo che era importante riuscire a dare una svolta alla mia vita e soprattutto non potevo accettare che fosse la disabilità a determinare il valore di un uomo. Io credo che l'uomo valga per i propri valori, per i propri ideali, per le proprie speranze anche ed era giusto dare una svolta alla mia vita e anche mettere a disposizione degli altri quello che era capitato a me. Lei è partito per questo viaggio per l'Italia a chilometri su chilometri molti dei quali lei li ha macinati proprio su una particolare sedia a rotelle motorizzata e tutto ciò è stato, questo viaggio è stato completamente ripreso perché diventerà un docco film infatti stiamo già anche noi apprezzando alcune delle immagini. Sì, abbiamo deciso di farlo in questo modo perché volevamo in qualche modo, anche come ho detto prima caricarci sulle nostre spalle il dolore di queste persone. L'abbiamo fatto così, sono stati qualcosa come circa 8.000 chilometri in auto, circa 2.000 fatte con la seggio alla rotelle 41 tappe e abbiamo incontrato circa 7.000 studenti perché è da lì che noi riteniamo debba partire la cultura della sicurezza. Certo è che però gli adulti qualche buon esempio lo devono dare e non sempre lo danno. Ne avrete parlato, non so, proprio forse anche ieri nel telegiornale, però un caso di ieri a Piacenza un ragazzo che sta facendo uno stage in un'azienda locale ha quasi perso il braccio. Io credo che se succede a un ragazzo che è lì per fare uno stage, una cosa di questo genere, una riflessione in generale bisogna farla. Noi l'abbiamo fatta con questa iniziativa, a lei ha ragione, uscirà un reportage documentario per ciò che riguarda tutte le tappe perché vogliamo ringraziare appunto gli studenti, i nostri dirigenti locali, ma vogliamo anche insomma che rimanga un documento appunto da poter utilizzare poi anche al termine di questa importante iniziativa. E oltretutto le aggiungo che insieme a Luigi Pastore che è il regista anche del documentario vogliamo realizzare vero e proprio film perché abbiamo dei materiali veramente ottimi, almeno lui dice, speriamo di riuscire perché così rimanga qualcosa in più anche un'iniziativa che secondo noi insomma è stata importante. Con conclusione, alle istituzioni che cosa si sente di chiedere? Una cosa semplice che è emersa con chiarezza durante proprio tutte le tappe del tour. In un paese serio io credo non si può e non si deve scegliere fra morire di fame e morire di lavoro. In un paese serio la sicurezza nei luoghi di lavoro viene messa al primo posto e tutti devono fare la propria parte anche il lavoratore ovviamente, ma tutti devono fare la propria parte per far sì che questo principio, questo diritto si affermi. Grazie davvero ovviamente, buon lavoro a Bruno Calvani, presidente di Fondazione Anmin. Grazie ancora. Grazie.